compresa nella zona domenica 3 maggio San Filippo è il 124esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 242 al termine il sole sorge alle 5.55 tramonta alle 20.20 la luna sorge alle 15.15 tramonta alle 4.09 posata la prima pietra del Tempio del Redentore alla Giudecca a scioglimento del voto formulato dal Doge Alvise Mocenigo I nel mese di settembre precedente il progetto è dell'architetto Andrea Palladio assistito dal proto Antonio Daponte le previsioni per domani cielo poco o parzialmente nuvoloso precipitazioni assenti temperature generalmente in aumento sulle pianure in calo di notte variazioni in prevalenza leggere o moderate a scelta di notte a scelta di notte a scelta di notte Grazie a tutti.